Lungo via Mario Nicoletta a Crotone ha aperto i battenti lo showroom Magniflex, attività importante ma soprattutto marchio internazionale di qualità che va ad affiancare il percorso imprenditoriale avviato ormai da anni dal Corredo del Corso. Quando comunque si crea un rapporto di collaborazione con una realtà come Corredo del Corso che comunque sul territorio è strutturata, pluriennale, conosciuta e ti affidi anche a delle brave persone, è bene anche usare le parole genuine, brave persone con cui collaborare, le paure rimangono dietro un angolo e si vede solo l'obiettivo futuro che è una grandissima crescita, uno sviluppo anche a braccetto di Corredo del Corso in questo territorio. Magniflex è sinonimo di comfort e benessere per dormire e riposare. Correvano gli anni 60 quando Giuliano Magni creava i suoi primi materassi in un piccolo laboratorio. Era l'inizio di un percorso che si sarebbe trasformato in una vera e propria rivoluzione. Nel corso degli ultimi 60 anni la passione per la ricerca e i grandi investimenti nell'innovazione, nel design e nello sviluppo di sistemi produttivi all'avanguardia hanno reso Magniflex sinonimo universale di comfort e benessere. Ci avvaliamo sia di materiali altamente tecnologici e innovativi, sia dell'esperienza di un'azienda che da più di 60 anni, anzi da 60 anni perché quest'anno festeggiamo il 60esimo aziendale, opera nel settore del benessere e del riposo e opera soprattutto in più di 99 paesi al mondo. Quindi ha un bagaglio sia a livello tecnologico che a livello culturale di una serie di esperienze che possiamo vantare raccolte appunto in 60 anni di storia. Un catalogo di 170 prodotti presenti in 99 paesi con più di 4.000 rivenditori, oltre 40 milioni di clienti nel mondo, 10.000 materassi prodotti ogni giorno. Quello che vogliamo fare noi è educare il cliente alla cultura del riposo, alla cultura del benessere e alla cultura dell'ascolto dei propri bisogni. A volte il prodotto, non essendo un prodotto da esibire, da sfoggiare come una borsa, un paio di scarpe è un po' sottovalutato. In realtà non pensiamo che passiamo un terzo della nostra vita, non volevo esagerare anche perché ora si dorme un po' meno, comunque un terzo della nostra vita a dormire e secondo me ad oggi il cliente non è ancora educato e noi come Magniflex vogliamo portare questo, educare il cliente nel quotidiano tramite i nostri collaboratori e tramite i nostri negozi sul territorio.